buongiorno a tutti e ben ritrovati e in questa pillola vorrei segnalare una risposta la numero 323 del 2023 dell'agenzia d'entrate che è interessante da due punti di vista per quanto è la mia opinione con riferimento al caso delle movimentazioni di beni in particolare pezzi di ricambio nel contesto di quelli che potremmo definire servizi post vendita ovvero nel caso particolare per le sostituzioni in garanzia di beni o comunque la riparazione in garanzia dei medesimi prodotti difettosi. La risposta 323 offre da una parte delle rassicurazioni che non fa nient'altro che confermare impostazioni da cui siamo abituati direi da 30 anni dalla circolare 1394 ovvero che l'astituzione in garanzia e la movimentazione meglio a scopo l'astituzione in garanzia non rappresenta non dà origine ad adempimenti per quanto riguarda gli elenchi riprogativi interest e laddove appunto la movimentazione avvenga tra due stati membri. dall'altra parte però come vedremo anche con l'esemplificazione che vi andrò a proporre l'agenzia ha avuto modo insomma di evidenziare che dal punto di vista dell'IVA non è vero che la diciamo operazione in questione ovvero la movimentazione dei pezzi di ricambio al fine appunto della sostituzione in garanzia non sia del tutto rilevante come vedremo fra poco in realtà rappresenta quello che in gergo tecnico prende il nome di trasferimento per agenze proprie dell'impresa questo ovviamente ci riferiamo nella movimentazione intranconunitaria tra due stati membri ma andiamo con ordine ricordando brevemente come fa anche la scheda che l'associazione in garanzia di per se stessa non è in senso tecnico né una cessione di beni né in senso proprio né in senso assimilato già che in realtà il responsabile di solito il produttore dei beni venduti è obbligato diciamo comunque prevede sulla base di un obbligo garanzia legale piuttosto che convenzionale ovvero garanzia contrattuale di riparare o sostituire quei beni che dovessero presentare i difetti entro un certo lasso temporale l'intervento quindi la soluzione garanzia o la riparazione che essa sia è già comprensiva nel prezzo originario di vendita del prodotto perché ecco quindi il motivo per cui da sempre insomma da questo punto di vista non ci sono novità l'amministrazione finanziaria ha confermato sempre confermato che si tratta di soluzioni irrilevanti dal punto di saliva cioè non vanno confuse con quelle che invece magari sono concessioni gratuite che invece hanno una loro rilevanza in senso dell'articolo 2. Detta irrilevanza peraltro approfitto anche per segnalarlo essendo comunque un caso interessante o meglio una precisazione quella di un'altra risposta recente al numero 304 ecco rientra nello stesso diciamo principio ovvero delle rilevanze ai fini dell'IVA anche il caso di prodotti che nel contesto di una compagna di una campagna di ritiro di prodotti difettosi viene eseguita oltre la garanzia dei prodotti stessi ma in esecuzione in realtà di quelli che altro non sono che obblighi diciamo fondamentalmente dettati dell'isatore nel caso specifico la risposta 304 fa riferimento agli articoli 104 e 107 del codice del consumo e quindi una campagna di ritiro oltre ripeto i termini della garanzia perché il produttore ha l'obbligo comunque di mettere nel mercato prodotti sicuri quindi interessante anche questo osservare o quantomeno segnalare con l'occasione questa precisazione tornando a noi la risposta 323 ha confermato comunque l'impostazione cui siamo partiti ovvero l'irrilevanza sostanzialmente ai fini dell'intrastat delle eventuali movimentazioni del prodotto dal cliente al responsabile centro responsabile di solito centri di assistenza affiliati con il produttore barra venditore a nulla rilevando questo lo ha sempre precisato diciamo da sempre la circolare famosa 1394 del ministero quella sugli interest per intenderci e trovo conferma appunto in questa risposta 323 è una conferma a mio modesto parere anche interessante comunque che ci sia stata perché in realtà qualcuno avrà anche notato nel 2022 le nuove istruzioni in particolare natura transazione 2.2 2.3 della dei nuovi elenchi 2022 dell'inter in realtà qualche dubbio lo avevano sollevato citando appunto tra con le transazioni che vi ho citato quella della sostegno di garanzia come movimentazione rilevato in realtà invece diciamo che è confermato che ancora valida la vecchia circolare 13 del 94 detto ciò veniamo poi all'altra parte diciamo quella più interessante contenuta nella risposta 323 a mio modo di valere che è quella che riguarda un caso se volete non è il caso non è un caso generalizzato un caso che va interpretato perché come vedete anche dal grafico si tratta di un soggetto italiano che lo specifico per la verità un soggetto extracomunitario ma che in italia una propria posizione iva come ragione fiscale per gestire caso specifico era riferito a assistenza su computer quindi riparazioni e pezzi di cambio che hanno a che fare con prodotti di largo consumo se volete quindi un soggetto comunque iva italiano che gestisce questa questi suoi obbligo questa sua onere comunque di far riparare in garanzia o eventualmente sostituire il prodotto attraverso dei centri di assistenza in italia affiliati i quali ricevono i pezzi di ricambio ovviamente ad onere a carico del di alfa chiamiamo alfa appunto il responsabile della garanzia il venditore in sostanza è un pezzi di ricambio che il venditore possiede detiene presso dei centri logistici dislocati in altri paesi comunitari il movimento da questo centro logistico ha il centro di riparazione affiliato l'agenzia di entrate ha confermato essere rilevante ai fini dell'intest ma attenzione guardate anche nel grafico il segnale appunto di attenzione il movimento da questo centro logistico all'italia in caso specifico al centro di riparazione affiliato diciamo con alfa rappresenta per alfa attenzione stiamo parlando di alfa è quello che appunto tecnicamente si chiama un trasferimento presenze proprie di impresa che tradotto significa l'onere di gestire con fatturazione dal paese di partenza al paese di arrivo in questo caso in italia la movimentazione dei pezzi di ricambio quindi un'operazione che l'agenzia colloca nell'articolo 38,3 lettera b del dl 331 ovviamente poi i pezzi sostituiti nella prospettazione che diventino in quanto sostituiti al cliente cliente non le ritira e quindi vengono acquisiti diventano proprietà in italia del di alfa alfa li fa spedire al centro logistico europeo dove appunto gestisce la logistica dei pezzi di ricambio sia quelli buoni che quelli ritirati poi eventualmente da smaltire ecco anche questa movimentazione al contrario dall'italia quindi al centro logistico in altro paese rappresenta che questo un trasferimento per esigenza che alfa andrà questa volta fatturato dalla sua pubblicazione italiana come articolo 41,2 lettera c quindi operazione assimilata verso il partita iva che avrà dovrà avere comunque nel centro logistico e quindi un caso interessante da sottolineare perché appunto nei servizi post vendita bisogna fare un po' attenzione soprattutto quando ci si riferisce questa è la mia conclusione se volete quando ci si affida meglio a centri voi logistici per quanto riguarda i depositi voi i centri affiliati per la riparazione in altri stati membri è necessario che i pezzi di ricambio che viaggiano il caso è riferito alla proprietà appunto in capo ad alfa nel nostro caso al produttore valla venditore ecco danno origine al trasferimento vendita impresa quindi è l'obbligo di identificazione e di fatturare dalle due posizioni pur rimanendo questo lo ribadisco lo risottolineo estranea la mobilizzazione del link inter quindi se volete è una cosa un po magari anomala una interpretazione forse un po innovativa rispetto al passato che sicuramente cambia un attimino le interpretazioni che un po tutti credo siano abituati a dare sull'argomento bene al caso di osservare ma questa è una mia mera considerazione se volete che magari potrebbe essere più semplice mettere in piedi una gestione con un call of stock un contratto di call of stock dove magari i pezzi di ricambio li mandi in contratto di call of stock al centro di riparazione il quale poi magari appunto nel momento in cui li utilizza te li fattura assieme al corpettivo del servizio evitando magari dover invece passare per una gestione probabilmente un po più laboriosa così come delineata nella risposta 323 di quest'anno del maggio di quest'anno bene con questo finito vi ringrazio l'attenzione e alle prossime pillole